In diverse regioni la stagione venatoria per alcune specie è già iniziata da due settimane, scatenando le polemiche delle associazioni animaliste e ambientaliste che chiedono una stretta al governo e maggiori controlli. In occasione dell'apertura generale della caccia siamo andati nella piana reatina. Questa prima giornata di caccia come è andata? Ma diciamo male, è una passione, anche se non si trova niente, siamo contenti uguali. Purtroppo c'è chi è contrario alla caccia e fa vertuto per ostacolare il gacciatore, mette il bastone tra le ruote. Noi abbiamo questa passione, non è che ammazziamo tutti questi animali. Abbiamo le idee degli altri, vorremmo che anche gli altri rispettassero le nostre. Con l'apertura della stagione venatoria per i carabinieri forestali il lavoro è notevolmente aumentato, soprattutto per una questione di sicurezza. La caccia, solo nel 2018, ha anche determinato un costo in termini di vite umane, con 13 morti e 50 feriti. Scrivi la matricola. Gli abbrichi dei cacciatori innanzitutto sono quelli legati alla sicurezza, alla sicurezza nell'uso delle armi, quindi le distanze dai fabbricati, non sparare all'infrasco, ovvero sparare soltanto quando il bersaglio è percepito visivamente, nitidamente, quindi si sa esattamente a cosa si sta sparando. Dopodiché ci stanno tutta un'altra serie di norme da rispettare, ovvero il possesso del porto d'armi, della licenza da caccia, del pagamento dell'assicurazione, il possesso del tesserino venatorio e la regolamentazione anche sugli animali, sui cani che vengono utilizzati a livello documentazione sanitaria, libretti e quant'altro. Voi siete concentrati anche sull'attività di antibracconaggio? Questo che state vedendo è un laccio, cosiddetto laccio, utilizzato dai bracconieri per la cattura dei cinghiali in ambito antibracconaggio. È un'attività che per noi assorbe, che ci assorbe molto tempo, risorse umane e mezzi, perché viene fatto soprattutto essenzialmente in aree protette, ovvero in periodo notturno.